ciao a tutti ragazzi di mine inside bentornati ben rivisti e oggi mi sono sentito in dovere di fare questo video relativo alla prestazione di adli e a mio modo di vedere così come si denota dalle pagine del sito prende sei e mezzo prende sei e mezzo a differenza di qualcun altro che gli dà delle insufficienze perché perché ha dimostrato di saper reggere il peso di giocare a san siro dopo aver giocato a cagliari lui finora praticamente a san siro da titolare in una parte importante non aveva mai giocato ha saputo ha dimostrato ripeto di dare di saper reggere la pressione ha saputo anche dimostrare un certo attaccamento alla maglia come si vede in occasione delle sultanze del primo gol una sorta di milanismo inaspettato comunque sia da un giocatore straniero e anche in fase difensiva in fase di interdizione poteva essere per carità più pulito più riflessivo meno il ruendo questo sì però anche lì questi atteggiamenti fanno capire una certa voglia di imporsi e sono contento che a fine partita il mister abbia detto che jacine sta diventando un titolare forza jacine siamo con te lo siamo sempre stato lunga vita al milan ragazzi mi raccomando è like commenti qui sotto dappertutto fatemi sapere voi cosa ne pensate è sempre forza è sempre forza